Sono ancora senza esito le ricerche della pensionata di 84 anni scomparsa all'alba di sabato scorso dalla sua abitazione in via Franceschini a Lido di Fano. Ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna hanno scandagliato per tutto il giorno il canale Albani, luogo in cui la donna aveva dichiarato di volersi gettare per farla finita. Si teme infatti che l'anziana, da tempo depressa, abbia deciso di gettarsi per porre fine alle sofferenze dopo una lunga malattia. Secondo i pompieri, se fosse caduta in acqua, il suo corpo sarebbe finito in mare aperto. A lavoro dunque anche gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Fano, a bordo di una motovedetta, hanno pattugliato nello specchio antistante l'imboccatura della costa da Fosso Seiore al Metauro. Secondo quanto sostenuto dai marinai del porto, se il corpo si dovesse trovare in acqua, il mare lo restituirà nei prossimi giorni. Alle ricerche proseguite, anche oggi, hanno collaborato sia la polizia municipale che i carabinieri. Infatti sua figlia aveva chiamato proprio il 112 per segnalarne la scomparsa. Dopo due giorni trascorsi da quel momento, gli sforzi per rintracciarla sono risultati vani, nonostante il ricorso a un nico scandaglio e ad altre sofisticate attrezzature. Ma ad ogni ora che passa, aumenta il pensiero di una tragica ipotesi.